La puttana! Che c'è Tony? Perché sei incazzato? Quell'amico tuo è meglio che si fa vivo con un altro lavoretto. Io non sono venuto negli Stati Uniti per farmi un culo così, va bene? Ha detto che viene ok? Che cosa vuoi da me? Che mi sono rotto le palle! Sta calmo. E cosa gli è preso a questo adesso? Si può sapere? Ehi, questo è un panino. Che cosa c'è in questo panino? Dentro c'è la carne. È quello che avevi chiesto, pane con la carne. Ah, mamma mia, guarda quella là. Quella là, vestita di rosa. Dio, quanta bella, guarda che belle tette. E guarda lo strozzo che ci sta insieme. Che c'ha quello lì più di me? Beh, lui è belloccio tanto per cominciare. Non ti sembra? E poi guarda che cavolo di vestito che porta. Andiamo a quello, c'è gran classe, c'è classe e c'è i mezzi. Qualche spicciolo per un po' di coca non fa male a nessuno, no? Porca. Guarda qui. Pelano cipolle. Queste dovrebbero raccogliere l'oro per le strade. Altro che cipolle. Ehi, ci sono due tizi che vi stanno cercando qua fuori. E' lui, amico. Uno alto e uno piccoletto. E Omar, è arrivato, te l'avevo detto. Non perdete troppo tempo, però. Abbiamo un sacco di cose da fare, ok?